Il marziano dice che non resta Che è che chi è? Il marziano gli ha fatto fuori tutti Non è che li ha fatto fuori, saranno le sorprese, le panchine, le vedrai Puoi comportare lui, un gran vice stasera? Allora, Milan fa un po' di fatica, è vero Però, è un po' strana la partita Un po' di episodi, un po' di... Rigore? Si, si, si D'accordo il nostro rigore quotidiano Ci saranno un po' di contesti Però, come finisce? Ma io credo che... Molta fatica di provare... È troppo importante Super, è troppo importante Vanno a parlare, vanno a parlare Non sei fatto male, due minutini alla leggea Non mi interviamo, grazie Farsa che... Grazie 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 Grazie